Parliamo di voucher per la digitalizzazione delle imprese. C'è tempo fino a luglio per partecipare al nuovo bando della Camera di Commercio disponibili complessivamente. 50.000 euro. Vediamo. Dalla Camera di Commercio in arrivo per le aziende 50.000 euro da investire in progetti di digitalizzazione che utilizzano le tecnologie abilitanti di impresa 4.0, un bando ad hoc che prevede 30.000 euro destinati alla misura A, cioè progetti indirizzati all'introduzione delle tecnologie abilitanti e complementari, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, da un minimo di 3 ad un massimo di 20. 20.000 euro invece riservati alla misura B per progetti presentati da singole aziende. Ogni voucher avrà un importo massimo di 10.000 euro a fronte di un investimento minimo da parte dell'impresa di 5.000 euro. Quest'anno, rispetto alle scorse edizioni, ci sono importanti novità per la spendibilità delle risorse assegnate. I voucher potranno infatti essere investiti non più solo in formazione e consulenza, ma anche per l'acquisto di nuove tecnologie, macchinari e software 4.0 da inserire in azienda fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili. Appena di esclusione, le richieste di voucher dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale all'indirizzo cia.molise.legalmal.it. Le stesse potranno essere inoltrate fino alle ore 21 del 15 luglio 2019. Ulteriori informazioni inerenti il PID e il Bando sono reperibili sul sito camerale alla sezione Servizi per le imprese digitali.